Buongiorno sposini e benvenuti su Nozzeggiando. Io sono Sara e nel video di quest'oggi voglio farvi vedere come realizzare questo segnatavolo autoportante. Autoportante perché come vedete si può reggere da solo. Questa è una soluzione molto economica, neanche molto semplice da realizzare perché ovviamente ho fatto tutto in cartoncino, ci servirà soltanto un puntino di colla. Altrimenti nel video vi farò vedere anche delle altre soluzioni alternative come queste che hanno invece un piccolo supporto che regge il cartoncino. Ma adesso vi lascio subito al tutorial. Ci servirà un cartoncino stampato su cui avremmo messo il numero del tavolo o il nome del tavolo. Questo misura 10 cm e mezzo per 6 cm. Un cartoncino più spesso su cui creare la base del nostro segnatavolo. In questo caso ho scelto Lilla misura 12 cm per 32 cm. Poi ci serviranno dotter, stecchetta piegacarta, colla nastro oppure anche una colla stick va benissimo. Una mascherina se vogliamo andare a creare la decorazione in rilievo ma è facoltativa perché possiamo decidere di utilizzare un altro tipo di decorazione. E infine una squadretta o un righello per segnare le misure in cui dovremo andare a fare le pieghe. E adesso vediamo come procedere. Per facilitare la realizzazione delle pieghe ho creato un disegno in cui ho segnato tutte le misure così sarà più facile riuscire a realizzarle. Allora questo è il nostro rettangolone 12 x 32 cm quindi dovremo andare a dividerlo a metà e quindi praticamente lasceremo due alette laterali che misurano 3 cm quindi creeremo una prima piega a 3 cm. Da quella da 3 cm dovremo misurare altri 13 oppure ovviamente semplicemente la segniamo prima la metà di 32 che sono 16 cm. Comunque questo è il disegno da cui potete vedere le dimensioni e adesso andiamo a prendere subito squadretta dotter e creiamo le prime pieghe. Allora io metterò un puntino quindi a 16 e un puntino a 3 cm e poi un altro puntino ovviamente a 3 cm sull'altro lato. Lo faccio direttamente col dotter così non ho neanche segni da dover cancellare fatti con la matita. Potete utilizzare anche il lato più sottile in modo da creare un puntino ancora meno visibile se volete ma tanto poi quando andremo a piegare in realtà non si vedrà più. e adesso andiamo a ripassare quindi a congiungere i due pezzi che abbiamo i due punti che abbiamo segnato. Pieghiamo io mi aiuto sempre con la squadretta per creare una prima piega e solo successivamente vado a ripassarla benissimo con la secchetta piega carta. Quindi ripassiamo bene la piega la seconda e anche l'ultima ed ecco qui praticamente la struttura del nostro segnatavolo è pronta. Ora non è incollata andremo a far sovrapporre queste due alette per circa un centimetro mettendo un puntino di colla ma prima di andare ad incollare le due alette andiamo prima a incollare l'etichettina diciamo la stampa col nome del tavolo e poi a creare la decorazione in rilievo. Come sempre preferisco appoggiarmi su un fogliettino di carta per non sporcare il piano da lavoro. Con l'annastro andiamo a centrare e incollare l'etichetta che abbiamo fatto con il nome del tavolo in questo caso tavolo numero 5. Quindi una volta attaccato il nostro cartoncino stampato prendiamo la mascherina per la big shot e andiamo a creare la decorazione. Io infilo direttamente tutto il pezzo e vado a passare il cartoncino con la mascherina all'interno della big shot ed ecco qui ho realizzato anche la decorazione in rilievo. A questo punto di nuovo un po' di colla al nastro lo mettiamo bene sul bordo senza discostarci troppo perché è circa un centimetro lo spazio che abbiamo per andare a incollare. Facciamo pressione in modo che la colla aderisca bene come vi dicevo si può usare anche una colla stick bo stick un'altra tipologia di colla l'importante semplicemente che faccia bene presa modelliamo leggermente il cartoncino ed ecco qui il nostro segnatavolo è pronto in questo caso un segnatavolo autoportante quindi non avremo bisogno di nessun tipo di supporto per reggere il nostro cartoncino con il nome del tavolo. Possiamo scegliere di realizzare un cartoncino così molto semplice c'è solo il nome del tavolo come vedete abbastanza piccolino e quindi si può usare uno di questi supporti con la pinza quindi si inserisce il cartoncino nella pinzetta e come vedete rimane in piedi senza problemi volendo si può decorare anche con un nastrino la stecchetta che regge il cartoncino per renderlo magari un pochino più più particolare sono dei semplici in realtà portafoto questi però come vedete bianco magari diciamo un pochino più neutro oppure si può trovare trasparente e può essere una buona soluzione. Un'altra opzione invece è quella anziché di realizzare il cartoncino solo col nome di avere sotto anche tutta la lista degli invitati che siederanno in quello specifico tavolo in modo che ci sia un reminder diciamo dal tablo ma anche sul tavolo nel caso qualcuno si fosse dimenticato. In quel caso anziché questa tipologia di supporto vi consiglio di utilizzare delle cornici. Ne trovate di super semplici ed economiche ad esempio ce n'è una Ikea che è veramente super basic vi lascio anche di quelle il link nell'info box oppure ci sono delle cornici un pochino più particolari che sembrano proprio dei portafoto magari con delle rifiniture dorate sono secondo me molto molto carine e raffinate se decidete di utilizzare questa tipologia di cartoncino quindi che riporta anche tutto il nome degli invitati e quindi il cartoncino sarà effettivamente molto più grande. Io li ho trovati in formato a 5 anche di quelle vi lascio il link anzi magari se riesco vi metto anche qualche foto qui nel video modo da poterle vedere. L'effetto può essere carino ovviamente in base alla tipologia di cornice di supporto si possono avere dei prezzi un pochino diversi quindi ovviamente cartoncino non andiamo a comprare nessun tipo di supporto stiamo usando soltanto la carta è decisamente forse la soluzione più economica in questo caso abbiamo il costo del supporto ma è un supporto molto piccolino e si trovano a prezzi veramente bassi se andiamo a scegliere una cornice ovviamente più la cornice sarà particolare o decorata più il costo salirà ovviamente ognuno ha un suo budget quindi sarete voi a fare i conti su quella che può essere la soluzione migliore per voi anche in relazione a quanti tavoli dovrete poi quanti tavoli dovrete allestire con proprio il loro cartoncino spero quindi che questa idea vi sia piaciuta che vi abbia dato qualche spunto utile sulla creazione del vostro segnatavolo vi ricordo di dare un'occhiata all'info box per andare ad approfondire ancora di più l'argomento e ci vediamo al prossimo tutorial ciao se ti è piaciuto questo video ricordati di mettere mi piace di condividerlo ed iscriverti al canale per restare sempre aggiornato se vuoi seguirmi anche sugli altri social trovi tutti i link nell'info box